Stasera ho il desiderio un attimo prima di riprendere il nostro cammino con la scrittura, con la parola di provocarvi un poco questa sera. Poi sapete che stiamo vivendo il tempo dell'Avvento e noi sappiamo che il tempo dell'Avvento è un tempo che ci prepara a Natale. Siamo così sicuri che è un tempo che ci prepara a Natale? Perché fateci caso, noi ci diamo da fare, prepariamo i presepe, gli alberi, nei locali, nei negozi addirittura, prima era dopo i morti, ma qualche locali la diceva anche prima dei morti. Però l'Avvento non è un prepararci semplicemente al ricordo di Gesù che è nato duemila anni fa. Vedete, l'Avvento di per sé nasce come preparazione alla venuta finale di Gesù. Quindi la Chiesa, se ci fate caso, nelle letture che noi ascoltiamo, a questo vuole orientare il nostro cuore. Perché la monotonia della vita, la quotidianità della vita, la stanchezza della vita, l'abitudine della vita, sapete che cosa ci porta? Ci porta a desiderare il Signore solo in momenti particolari, in altri momenti, proprio perché la quotidianità è abitudine, di dimenticarci del Signore. E dimenticarci del Signore significa proprio dimenticarci del fatto che noi viviamo attendendo la sua venuta. Io non so se state, adesso anche con l'Arcangelo, ritorniamo un po' questo argomento e il problema qui. In televisione ogni giorno esce una nuova, no? Quella scuola lì è stata evitata il presepe, là non si possono fare i canti di Natale. Vabbè, lasciamo stare tutto questo. Però, se ci fate caso, questo accanimento che c'è nei confronti del Natale, ma secondo voi dipende da chi? C'è stato, non so se ve l'ho detto la volta scorsa, un filosofo italiano, ex sindaco di Venezia, Cacciari, che lui si professa ateo. E lui ha detto, se c'è questa dimenticanza del Natale, non è né la colpa dei musulmani, né di questi dirigenti scolari, è la colpa, prima di tutto, vostra di credenti. E noi che forse abbiamo perso qualcosa, oppure, vedete, c'è comodo. Perché è vero, tutti quanti voi potreste dire, pure io potrei dirlo, no? Vabbè, ma io che poi sono da solo, che cosa posso fare? Però mi pare che Giovanni Battista era da solo. Maria di Nazareth era da sola. Pietro, Giacomo e Giovanni erano da soli. Gesù era da solo. Mosè era da solo, San Giovanni della Croce, che è richiamato oggi, era da solo. Cioè, c'è una persona che crede in questa realtà, di questa realtà nella quale crede, non crede solo a livello intellettuale, come stiamo cercando di dirci. La fede è un'adesione a una persona. Quindi questa persona ti coinvolge così tanto che tu fai poi la scelta della tua vita, e le tue scelte però dicono il Natale. Le tue scelte dicono il Natale. Non è il fare il presego, fare l'albero. Allora, dobbiamo chiedercelo. Se le mie scelte di credente dicono il Natale. Perché capite, se già io ho iniziato a comprare i pannettoni, già li ho comprati adesso, come quello che deve fare prima per l'affanno, mi sapete dire che scelta di Natale io sto facendo? Cioè, che testimonianza sto dando in quel momento? E se anche io contribuirò all'aspetto economico del Natale, all'operazione commerciale del Natale, e io contribuisco anche in questo, allora capite, effettivamente ha ragione che il Natale lo stiamo vivendo in mezzo come Natale. E io penso che in questo dobbiamo sentirci tutti i responsabili. Allora, riscoprire il Natale, riscoprire, come vedete, questo fatto della sua venuta, cioè scoprire chi è Gesù Cristo. Marco ci sta aiutando poi in questo. Però l'abbiamo sempre detto, non pensate minimamente di ridurre la nostra conoscenza su Cristo agli incontri che facciamo qui il giovedì o andando a messa la domenica. Non è in questo la conoscenza di Gesù Cristo. La conoscenza di Gesù Cristo è nell'incontro, nella catechesi, nella celebrazione d'accordo, però dove nella vita che deve essere coniugata quotidiana a me. Quella quotidianità e ordinarietà e abitudine che potrebbe farcelo dimenticare dovrebbe diventare il luogo dove noi lo dovremmo incontrare. Sì, però, perciò ho detto, attenzione a non ridurre solo a questo. Se poi, quello che qui ascolto, quello che durante la celebrazione vivo come celebrazione, poi non deve diventare il tessuto di quello che io vivrò fuori. Perché altrimenti, capite, in questo contesto, sì, sì, Signore, sì, 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 amen, l'ode, gloria a te, Signore Gesù. La celebrazione, amen, l'ode, e poi durante la giornata, quando vado a lavoro, quando faccio la spesa, quando mi incontro con qualcuno, quando c'è qualcuno che sia in difficoltà, quando c'è quella carità che devo vivere, lì dove sta quell'incontro di catechesi che ho fatto? Dove sta quella messa alla quale ho partecipato? Dove sta quella preghiera personale che ho vissuto? Dove sta quella adorazione guaristica che ho celebrato? Attenzione alla... Dobbiamo darci da fare. Perché Gesù è stato chiaro, vi ricordate? Ciò che alla fine dice se sei o non sei il credente, se sei o non sei cristiano, è la carità e l'amore che si abbevera dalla celebrazione guaristica. Lì trova slancio, trova forza, trova la vera natura, la vera identità. E non è facile, lo sappiamo. Ecco perché abbiamo continuamente bisogno di ritornare alle sorgenti. Ecco allora perché l'Avvento poi diventa salutare per noi. E perché vorrebbe creare dentro... E ripeto, ascoltate con attenzione le preghiere che la Chiesa dice in Avvento. Dovrebbe creare questa sana attenzione. L'Avvento, potremmo dirlo, chiamarlo come il sacramento dell'attesa. Quando è bello attendere qualcuno. Quando è triste, quando non hai più nessuno da attendere. E penso un po' a quelle persone anziane e sole, no? Se fate un certo orario, giusto una volta, è finita la giornata. Non hanno più nessuno da aspettare. Pensare che non abbiamo più nessuno da aspettare è terribile per noi. Allora l'Avvento aiuta a metterci in tensione. Tendiamo verso. E io tendo verso qualcuno. E lo posso fare perché mi ha detto che sta per venire. Stavate qui perché sapevate che c'era l'incontro. Quindi forte dal fatto che Don Ernesto ha detto giovedì alle 19.30 c'è l'incontro? Noi siamo venuti. Ma se non ci avesse detto che c'è l'incontro, venivamo giovedì scorso, l'incontro non c'era. A colpa di chi era? Mia, di Maurizio non sono venuto. O voi che non avete ascoltato l'annuncio che non è stato dato. Allora, io mi metto in tensione in attesa perché so che lui viene. E su che cosa noi basiamo questo fatto che lui verrà? Sul fatto che lui è già venuto. Siccome è già venuto e ha promesso che... Quindi noi su questo ci basiamo, vedete? Sul fatto che lui è già venuto noi possiamo attendere che verrà. E però attenzione, sempre perché pure qui la tentazione, come abbiamo visto l'oltre scorsa, ricordate, il Regno dei Cieli è qui, è presente in mezzo a noi. Quindi il tempo, vedete, è un tempo presente, non un tempo futuro. Perché noi quando diciamo che lui verrà per riempire... E adesso lui riempie la nostra esistenza, adesso e oggi. Perché il giudizio è oggi. Noi non siamo... Il problema che non è che noi dobbiamo porci se esiste o no Dio. Dio c'è, lo sappiamo, esiste. Una realtà superiore esiste. Tutti quanti accettano che ci sia qualcuno o qualcosa di superiore. Ma il problema è se con questa realtà superiore io entro in relazione. Sì, Dio c'è, sta bene per i fatti suoi, però sto per i fatti miei. Il problema non è essere atei, il problema è essere indifferenti. E noi questo rischio lo stiamo correndo di essere indifferenti. Pure partecipando alle stesse celebrazioni. Dio c'è, non mi dà fastidio. Capite? Come una cosa invertita. Sì, c'è, però non mi dà fastidio. E invece dovrebbe darci fastidio. Dio è colui che dovrebbe darci fastidio. invece noi lo consideriamo come uno che ci acquieta, che ci tranquillizza, ci dà la caramellina, ci mette a posto, hai capito? Mi sento meglio, mi sento bene. È tutto il contrario. Io, quando lo incontro, non dovrei sentirmi né meglio né bene, dovrei sentire inquietato. perché, vi ricordate, no, dietro a me lasciarono tutto e lo seguirono. È una cosa che ci inquieta, questa. E abbiamo detto la volta scorsa, la fede è proprio questa, questa sua proposta e questa nostra risposta. Qui, capite, non è niente altro. seguendolo, conoscendolo, e capisco, e conoscendolo, seguendolo, lo capisco, come il quadro, quando è finito. Non so se me avete visto un pittore che fa un quadro. Il pittore che fa un quadro, iniziamo il quadro, non è che tu già hai il quadro solo perché hai detto iniziamo il quadro. Ci va nella sua mente il quadro. Però poi, man mano inizia a dipingere il quadro. E voi lo sapete, quante volte, mentre poi sta dipingendo, può darsi che gli viene una cosa così e deve cambiare. E oggi aggiunge una cosa e poi lo sfonde, e poi alla fine, quando il quadro è completo, tu hai la visione completa della realtà, ma non mentre questo quadro lo sta dipingendo. Anche qui l'abbiamo detto se vi ricordate. Quindi, i discepoli, quando hanno detto il loro sì, non sapevano dove sarebbero arrivati. Pietro sapeva che dalla Galilea arrivava a Roma e lì puoi morire martire. Ma avrebbe detto per pescare i pesci, pur se qualche volta non li pesco, pazienza. I calcoli, i calcoli noi non li possiamo fare. Abbiamo un solo calcolo sul quale noi possiamo vogliare tutto così come ha fatto Pietro, ha fatto Maria, hanno fatto tutti quanti. Cioè, sulla sua fe... Lui ha promesso. Quindi, io credo che lui ha promesso. Quando? Non lo so. E non sta neanche a me il saperlo. Domani io farò un incontro con i diaconi permanenti, preparando l'incontro da fare con loro. A un certo punto gli proporrò, diciamo, non un giochetto, non una cosa così, però gli proporrò una cosa provocatoria. La voglio vorre anche a voi questa sera. Che non è mia, tra l'altro. L'ho ascoltata e però la faccio mia. Perché mentre l'ho ascoltata mi sono sentito provocato da questa cosa. E lui dice così, dice, adesso lo sappiamo, la campana ci ricorda che sono le 20, sono le 8. Se io vi dicessi a mezzanotte viene il Signore, che cosa faremmo? Ah? Allora, capite? Cioè, io so che a mezzanotte viene il Signore. Quindi, sono le 20, ho 4 ore a mia disposizione. Allora, inizieremo subito a fare i nostri conti. Perché vorremmo essere trovati pronti quanto è più simile a lui. Allora, proviamo per un attimo a pensare. Eh? Se avessimo la possibilità. No, adesso, non lo facciamo perché non abbiamo la possibilità. Però dice, allora, io adesso penso per un attimo quella realtà che dovrei aggiustare per farmi trovare pronto. Quindi, due secondi, vi dico. Due secondi di silenzio, provate a pensare la realtà per farci trovare pronti. Sicuramente si è fatto qualche volto davanti ai nostri occhi, qualche situazione particolare. Ora, perché quando esco dall'incontro qui stasera quella cosa non la vado a mettere a posto? Sapete perché non la vado a mettere a posto? perché c'è tempo. Perché penso di avere tempo e perché quindi non credo che mezzanotte lui possa venire. E dice, beh, hai fatto un esempio. Ma il problema sapete qual è? Che proprio perché abbiamo fatto un esempio e noi lo escludiamo che mezzanotte potrebbe proprio essere il tempo dove lui viene. perché il Signore è imprevedibile, non è prevedibile. E noi dobbiamo giocare d'anticipo per certi aspetti sull'imprevedibilità di Dio per cui sono pronto. Certo, poi ci possiamo fare pure la domanda ma sono pronto perché ho paura o sono pronto perché poi c'è l'amore? Perché capite lui è lo sposo e la sposa non ha paura e lui non è il giudice. Allora ancora una volta ritorniamo il tempo è compiuto convertitevi e credete al Vangelo ora non domani perché io domani non lo so se il tempo l'avrò domani. E allora è questa conoscenza di Gesù Cristo che i Vangeli ci mettono davanti agli uomini ci la mettono nel cuore nell'animo nei sentimenti perciò San Paolo a un certo ponderato abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù e però per avere questi sentimenti li devo conoscere li devo sapere e il Vangelo i Vangeli ci dicono i sentimenti di Cristo Gesù non ci dicono i sentimenti di un altro e come abbiamo detto la volta scorsa parlando di Cristo siccome Cristo ci rivela la pienezza dell'umanità io capisco come dovrei o potrei essere uomo e allora la prima caratteristica è quella del seguirlo la sequela è una sequela che abbiamo detto faticosa lenta che ha dei ritardi ha dei peccati però non si blocca perché continua perché continua perché c'è sempre questo fatto che lui continuamente guardandoci vedendoci dietro a me ha più interesse lui ad amarci secondo voi o non a seguirlo lui ad amarci guardate io vorrei che non lo so quanti incontri farò con voi però io vorrei che tutti gli incontri che abbiamo fatto fino adesso se alla fine no come dice ma questi incontri sono Maurizio voi tutti mi stanno che ha da fatto che voi possiate dire abbiamo capito che il Signore ci ama e basta come prete forse io avrò raggiunto lo scopo della mia vita andiamo via da qui sempre con questa consapevolezza il Signore ci ama e basta perché quando detto prima la paura l'aspetto o paura o perché so di essere amato dell'amore lo sapete la paura non cambia le persone e ti posso pure minacciare e tu puoi cambiare perché ti ho minacciato però al momento in cui il pericolo finisce io che cosa faccio ritorno a quello di prima e possiamo vivere sempre sotto minaccia è solo l'amore che può cambiare il Signore non ci minaccia il Signore non ha minacciato a me nessuno ci mette la realtà davanti e io lì c'è poi la mia libertà vedete non è la minaccia è la mia libertà il Signore dice effettivamente la strada c'è percorri là e allora dietro a me Gesù ha detto agli apostoli e gli apostoli siamo noi Simone Andrea Giovanni Giacomo hanno il privilegio lì fisicamente di averlo visto però provate a pensare la parola si fa carne quindi dall'incarnazione mistero di Natale quindi il verbo che si fa carne scende ad abitare sulla terra in mezzo agli uomini e loro l'hanno visto poi che è successo che la carne e quindi Gesù Cristo si è fatta di nuova parola nel testo del Vangelo e noi lo possiamo riascoltare abbiamo la grazia di poterlo ascoltare ve l'ho detto vi ricordate dovremmo imparare a dire non leggo il Vangelo ascolto la parola mi metti in ascolto e quindi è bello questa realtà no? si fa carne l'hanno incontrato l'hanno visto e la salvezza è arrivata ora si è rifatto di nuova parola per arrivare a noi andate annunciate e noi quindi abbiamo la possibilità di accedere alla salvezza questa possibilità di accedere alla salvezza meglio ancora che la salvezza arriva a noi e noi la accogliamo e nei sacramenti e nella parola e nella carità e negli altri facciamo un altro passettino avanti giunsero a Cafarno e subito Gesù e stiamo ancora a capitolo primo al versetto 21 giunsero a Cafarno e subito Gesù entrato di sabato nella sinagoga insegnava ed erano stupiti del suo insegnamento egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli iscritti allora Cafarno stiamo ancora a nord stiamo in Galilea allora Giudea Betlemme e Gerusalemme al sud la Giudea la Galilea e al nord ricordate abbiamo detto che la Galilea era la zona di confine quindi dove c'erano i pagani quindi era una zona non bella una zona mal vista secondo sempre la mentalità dell'ebreo che stava lì al centro quindi era una zona diciamo noi adesso usiamo l'espressione di Papa Francesco una zona di periferia dove nessuno avrebbe scommesso e Gesù il Signore proprio lì va a scommettere Nazareth si trova lì in Galilea chiamando questa fanciulla in questo paese proprio sconosciuto Gesù poi inizia la sua attività pubblica proprio lì in Galilea sul lago lì di Tiberiade la zona di Cafarno e Cafarno potremmo dire è la residenza proprio di Gesù perché Gesù ogni due o tre si trova sempre lì a Cafarno a Cafarno si trova la casa di Pietro di Simon Pietro e chi va lì in terra santa c'è proprio ci sono i resti c'è la casa c'è la chiesa sopra e sotto si vedono i resti della casa attribuita secondo la tradizione a San Pietro ci sono anche delle realtà per dire che veramente quella poi sia la casa di Simon Pietro quindi si trova lì a Cafarno giunsero a Cafarno quindi non è più Gesù da solo adesso ma lui e gli altri quattro li ha chiamati quindi l'hanno seguito quindi non è un modo di dire veramente l'hanno seguito giunsero prima ha detto ricordate Gesù passando Gesù camminava quindi è lui ma adesso giunsero il verbo è cambiato la comunità la chiesa si è costituita la chiesa dove c'è Gesù Cristo dove due o tre sono uniti o sono in mezzo a loro sono quattro e c'è Gesù con loro e quindi loro giunsero a Cafarno l'abbiamo detto no Gesù il veniente è quello che cammina sempre quello che viene sta venendo è venuto verrà domani accoglierlo riconoscerlo in questa realtà e subito entrando di sabato nella sinagoga insegnava il sabato perché è il giorno del riposo per gli ebrei dove il Signore dopo aver portato a termine la creazione e vi ripetere la genesis il settimo giorno si riposò settimo giorno perché perché noi diciamo lunedì martedì mercoledì giovedì venedì è sabato però attenzione perché di per sé noi dobbiamo contare domenica perché la domenica è il primo giorno quindi il sabato è il settimo giorno per l'ebreo perché la domenica è il primo giorno giorno primo giorno secondo giorno terzo giorno quarto giorno quinto la parasceve che sarebbe il venerdì sabato e poi c'è la domenica che è il primo giorno e quindi nel settimo giorno Dio riposandosi non è che Dio si è riposato se mi sono messo con il papo il trono a sedia di nobel ho faticato i sei giorni ma adesso mi riposo il riposo di Dio noi dobbiamo intere attenzione perché noi ai dei fundi diciamo l'eterno riposo non diciamo che lei si è addormentata e sta riposando nel sonno della morte partecipa del riposo di Dio e il riposo di Dio sapete che cos'è? è la contemplazione della sua creazione vi ricordate tutte le volte e vide che era cosa buona e vide che era cosa buona e dire che era cosa del sac dice che era cosa molto buona e Dio contempla sta cosa perciò ve lo dissi ricordate vedere il mondo come lo vede Dio Gesù vide Simone e Andrea e li chiamò Gesù Dio come vede il mondo cosa molto buona e ci va alle sue mani provate ai disegni che fanno i bambini il bambino piccolo il disegno della casa o il disegno dei genitori della famiglia sono degli sgordi però per i bambini è bellissimo quel disegno e per i genitori è ancora più bello quel disegno e se li conservano si disegni è uscito dalle sue mani poi l'ha affidata all'uomo quello che l'uomo ha fatto è un altro paio di mani ma Dio continua a vedere il mondo uscito dalle sue mani che è ancora possibile ecco la restaurazione dovuto poi dal peccato che è realizzato Cristo Gesù come direbbe San Paolo è la nuova creazione in Gesù Cristo ecco perché inizio in principio il nuovo principio che inizia con Gesù Cristo c'è l'inizio della creazione il nuovo possibile perché ciò lì dove Adamo ha fallito Gesù invece lì l'ha realizzato dicendo all'uomo attenzione tu puoi vedere Adamo o puoi vedere Gesù Cristo il vecchio Adamo o il nuovo Adamo a chi ti vuoi rifare tu adesso noi a chi vogliamo rifarci al vecchio Adamo allora stendiamo a mela prendiamoci a mela e quindi non morremo affatto diventeremo come Dio poi andiamo a vedere e siamo nudi oppure vogliamo accogliere il dono il nuovo Adamo Gesù Cristo e accogliere che tutto ci è dato in dono giunsero a Cafarno e subito entrò di sabato nella sinagoga l'ebreo di sabato va nella sinagoga i cristiani di sabato va nella chiesa i cristiani di domenica dovrebbero andare nella chiesa ma dovrebbero non perché c'è l'obbligo perché dovrebbero andare a dire grazie per ringraziare fateci caso i prefazzi voi lo sapete cosa sono i prefazzi perché abbiamo fatto come inizia è veramente cosa buona e giusta rendere grazie sempre in ogni luogo sempre così dice c'è sempre sta frasetta può cambiare il resto ma sta frasetta non manca mai rendere grazie sempre in ogni luogo sempre in ogni luogo qualche volta può anche non esserci ma rendere grazie c'è sempre la domenica noi andiamo in chiesa per dire grazie non per fare la missa per dire grazie e l'abbiamo detto vi ricordate dice grazie chissà chi ha ricevuto il dono chi non ha questa consapevolezza tranquillamente si può stare a casa domenica scorsa avete detto grazie non se siete stati a miss se avete detto grazie domenica scorsa allora voi capite se io lunedì martedì mercoledì giovedì inizio a vedere quante cose per dire grazie come cambierebbero le nostre missa le nostre celebrazioni e come cambierebbe la nostra vita mamma mia già ha missa e voi pensate domenica 24 c'è a missa il 25 c'è nata missa mamma mia e non basta una e pensate il 6 gennaio l'epifania il 6 sarà sabato e il 7 sarà domenica pure lì altri due giorni i mesi mamma mia e sono andati ieri mamma mia basta certamente che basta di per sé ne basterebbe anche una sola di per sé se credi di dire grazie perché noi siamo fatti così perché quando vogliamo una cosa voglio sta cosa voglio sta cosa voglio sta cosa a tutti i giorni in tutti i momenti se voglio una cosa una volta che ha già avuto grazie ha messo se lo diciamo ai nostri genitori quando ci danno qualcosa grazie una sola volta e basta se per dieci volte ho chiesto quella cosa almeno per dieci volte dovrei dire grazie proprio per pareggiare i conti ammesso che ci fosse poi un pareggio in questo quindi capite dovrei stare dalla mattina fino alla sera lì proprio in chiesa per dire grazie e dico grazie però attenzione nelle grazie di Gesù è lì allora poi venendo conto del dono grande che ricevo perché il grazie di Gesù lo leva al padre dall'eternità da prima che il tempo fosse Gesù al padre il figlio al padre ha sempre elevato il suo rendimento di grazie se è vero che noi ci uniamo alla liturgia eterna del cielo guardate che sono cose che nel dirle così però sono cose che veramente noi dovremmo segnarci per poi poterci tornare sopra e per un certo punto pensandoci sopra le vertigini ci dovrebbero venire e Santa Caterina da Siena a un certo punto dirà così ma che cosa ti ha spinto tanto ad amarmi e a un certo punto dirà sei un pazzo d'amore perché solo un pazzo può amare una creatura come me che è peccatrice diceva lei Santa Caterina da Siena forse pure questo ne abbiamo perso il contatto con i santi io non so se voi intanto leggete un libro spirituale dovremmo prendere riprendere Don Enesto ci richiamava San Giovanni della Cruce e qualche volta dice chi è il suo santo sarebbe bello anche se lo vedete se vedessimo il calendario giorno dopo giorno oggi che santo è e poi se ci nascesse la curiosità e chi è che cosa ha fatto ma anche una cosa breve adesso sul computer stanno proprio i trafiletti proprio piccolissimo proprio semplicemente chi è che cosa ha fatto non tutta la vita e poi è chiaro se mi può interessare vado a leggere anche tutta la vita una volta con il gruppo di Crissima ragazzi della Crissima si avvicinavano la festa di tutti i santi e dissi loro a prossimo incontro ognuno presenti la storia del proprio santo cioè tu hai un nome conosci il santo di cui porti il nome conosciamo la storia dei nostri santi padroni noi capite e poi ci rifacciamo a lui a loro ci proteggono ci proteggono non è tanto così per dire ma veramente e quindi di sabato è intorno alla sinagoga pure Gesù va di sabato nella sinagoga anche lui è come tutti gli ebrei e di sabato va nella sinagoga la sinagoga dove si sta insieme non si sta da soli si sta insieme perché in chiesa non si sta da soli perché noi qui in chiesa pensiamo la mia messa quanto è brutto quando si vede in chiesa no? vedi molte volte uno che si siede da una parte un'altra che è 100 metri di là io penso che se le chiese no? si aprissero le porte e le panche fuori anche le per le porte fuori dal comune pure gli altri e dove sta la comunità? mi dice ma io non lo conosco è così è vero non lo conosco infatti quello è il momento in cui noi ci conosciamo proprio quello è il momento ma quello è la mia antipatica è proprio quello è il momento per superare l'antipatia proprio quello perché è dono non è tua forza cioè lì veramente tu capisci la tua fragilità la tua debolezza e ti apri per ora l'ondorno della grazia la sinagoga la chiesa l'ecclesia l'essere convocati l'essere chiamati quello e questo l'abbiamo visto a suo tempo se vi ricordate stiamo lì perché siamo chiamati siamo convocati abbiamo risposto a quella chiamata ed erano stupiti del suo insegnamento egli infatti insegnava loro comune qualità e non come il Vangelo non ci dice Gesù che cosa diceva che cosa ha insegnato che peccato parlava di sé se lui è il Vangelo inizio del Vangelo di Gesù Cristo il Vangelo che è Gesù Cristo quindi dava certamente questa bella notizia però insegnava ed erano stupiti di quello che lui diceva noi abbiamo la capacità di stupirci ancora delle parole che ascoltiamo del Vangelo perché guardate dice un detto se non stupisci non capisci se non ti sei stupito e meravigliato di quella parola vuol dire che non l'hai capita perché queste parole abbiamo detto sono rivolte a noi è lui che parla a noi loro si stupivano dal modo suo di insegnare di parlare e lo stupore e la meraviglia e che è quello che ti fa dire ma com'è possibile perché guardate noi dobbiamo ritornare a dire ma com'è possibile com'è possibile che Dio si è fatto carne Dio si è fatto bambino com'è possibile com'è possibile che ha scelto me e ha scelto voi com'è possibile com'è possibile che diventi quarestia e si lascia mangiare da noi dobbiamo dircelo queste cose Maria l'ha detto com'è possibile com'è possibile il com'è possibile fa nascere poi ci mette in moto ci mette in movimento riaccende qualcosa in noi stupore e meraviglia e siamo credenti altrimenti la monotonia diciamo prima quella che azzera e appiattisce i nostri giorni appiattisce la nostra vita com'è possibile che sono vivo la scienza può darci la sua risposta eppure lì sarebbe interessante mammi tutto questo groviglio no? ma capite di quest'opera così meravigliosa che è corpo umano che è così perfetto che poi basta un niente e non si capisce più niente del nostro corpo e sono andato all'ospedale a Casetta e mi ha detto di venire qui di dove stavo prima parroco lì e lui mi ha detto è caduto speriamo che si riesce a assorbire sta cosa oppure devono aprire il cranio non ho capito più niente e gli ha detto non lo so e ti sono uscito di casa e mi sono trovato qui all'ospedale capite tutta la perfezione del corpo poi bastò niente stupirci domani mattina iniziamo a stupirci quando ci vedremo allo specchio anche per dire che siamo buffi ma stupiamoci e stupiamoci lo stesso perché se mi confronto che mi sono fatto vecchia mi ricordo quando ero giovane e può dire che ho fatto un cammino e stupisco e stupendo mi capisco perché è la parola rivolta a me allora qui allora come ci poniamo ecco come ascolto durante le celebrazioni erano stupiti del suo insegnamento vedete la meraviglia sapete a cosa si contrappone alla durezza del cuore non ascolta chi ha il cuore duro perché davanti a certe provocazioni che tu ricevi allora perché se stupisci capisci e se capisci devi anche agire poi è perché non è che capisci e poi rimanere e poi non fai niente ed è perché se dici vieni dietro a me hai il signore che mi sta chiamando e però poi non mi alzo ho capito ma che ho capito se poi resto seduto allora mi stupisco perché mi ha chiamato e resto perplesso e resto meravigliato però poi devo dare seguito e mi alzo e lo seguo con tutto quello che poi comporterà questo alzare e seguire invece nel momento in cui la durezza del cuore vedete è proprio quella che di chi non è docile di chi non vuole ascoltare di chi non vuole lasciarsi provocare di chi dice fondamentalmente sto bene per i fatti miei e ripeto non si tratta semplicemente di un ascolto che passa attraverso l'organo dell'orecchio ma è un ascolto che passa sì dall'orecchio però poi deve macinarsi dentro i pari della chiesa parlavano di ruminazione ruminare come le pecore no? l'erba e mangiare e stiamo sempre come quando ricordavamo da bambini masticavamo la gomma sempre lì sta gomma provate a pensare se ci fosse la parola una frase dell'Evangelo e noi la masticassimo sempre così con la bocca e sale e scende sale e scende tra il cuore e la mente cuore e mente cuore e mente cuore e mente cuore e mente io ho detto tante volte quando vado a celebrare dalle storie vado a piedi da casa mia lì e invoco lo spirito santo e poi faccio la pichiera del mattino mi sono reso conto che alcune volte la dico muovendo le labbra e mi sono reso conto anche che c'è qualcuno che se mi vede muovere le labbra così no? vede le labbra che io muovo così e secondo me pensi che è scema penserà però in questo momento mi sta venendo in mente proprio in questo momento che c'è il racconto di un pellegrino russo non so se avete mai sentito parlare dove c'è la famosa preghiera del cuore signore Gesù io e David abbi peta di me che loro ripetono continuamente questa c'è un nome sinceramente che mi sfugge adesso in questo momento il nome tecnico proprio di questa di questo modo di fare questa preghiera dove questo i pellegrini loro continuamente ripetono questo addirittura anche quando dormono perché è diventata così profonda che anche col battito del cuore e col modo di respirare signore Gesù abbi peta di me e quando loro la dicono anche muovendo le labbra siccome lo sanno di loro l'altro vedendolo capiscono che lui sta facendo la preghiera che ha quel nome particolare che adesso mi sfugge chissà se mi dicono semplicemente che è stupido è pazzo oppure potranno anche pensare stara pregando vedendomi muovere le labbra noi i musulmani lo vediamo hanno quella sorta di rosario là ci sono i novantanomi loro dicono i novantanomi di Dio i novantanove nomi di Dio più c'è uno che è impronunciabile che non si conosce quello là particolare tu lo vedi che snocciolo sta cosa in mano lo vedi che quindi sta snocciolando e quindi sta nominando i nomi di Dio io quante volte vi ho detto portiamo la Bibbia portiamola in mano facciamoci vedere che teniamo sta Bibbia in mano dove vai? vai a fare l'incontro erano stupiti quindi questa meraviglia che ci aiuta veramente a sciogliere il nostro cuore vi ricordate nel libro di Ezechiele toglierò il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne noi dovremmo chiedere nella preghiera questo signore ammobidisce il mio cuore rendilo sempre più simile al tuo rendi i nostri cuori simili al vostro ora però attenzione a un certo punto qui dice ed ecco nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo che vuoi da noi Gesù Nazareno se è venuto a rovinarci io so chi tu sei il santo di Dio nella sinagoga c'è un uomo posseduto da uno spirito impuro un indemoniato nella sinagoga ci può lasciare un po' perplessi e questo ci fa capire una cosa che il male non è sempre fuori di noi ma il male ha bisogno anche di qualcuno che lo compia questo male non è che c'è quindi un luogo che solo perché io lo possa frequentare fisicamente può dire che automaticamente vedete niente avviene automaticamente o per magia non è che automaticamente venendo in chiesa sono buono però perché sto in chiesa automaticamente divento buono se come abbiamo detto ascoltando stupisco e stupendomi credo credo vivo quello che ho accorto ma se il resto tale e quale allora capite potrò dire ho sentito come diciamo noi la messa ho fatto il precetto domenicale e la mia coscienza sta a posto ho un peccato in meno da confessarmi quindi attenzione non è il capestare una realtà che posso definire sacra che è garanzia per me e vedete che questo intervento di questo spirito impuro dove va proprio sul fatto di questo insegnamento da parte di Gesù la parola Gesù insegna quindi è la parola lui no sta dando la parola la parola ti mette a nudo la parola rivela tu chi sei perché noi quando parliamo nel parlare diciamo noi chi siamo ci riveliamo nella parola quindi Gesù sta rivelando il progetto del padre davanti a questo progetto del padre chiaramente questo spirito impuro inizia a gridare perché lo sappiamo no il progetto del demonio qual è? è l'antiprogetto è il progetto conto rispetto a quello del padre di Dio se è venuto per rovinarci io so chi tu sei come va a sapere chi è? ricordate come inizia nel Vangelo la volta scorsa dopo il battesimo Gesù che fa lo spirito lo spinse nel e nel Vangelo fu tentato e quindi non è che se ne è andato vabbè fatti tre tentazioni a rivederci la tentazione continua io so chi tu sei Papa Francesco ha detto una cosa l'ha ripetuta il demonio è più intelligente di noi col demonio non è che puoi stare a dialogare a fare una trattativa perché lui è più intelligente di noi l'unico modo per smascherarlo è proprio la conoscenza della parola perché conoscendo la parola conosco il progetto di Dio e mi rendo conto dell'illusione del suo progetto ma conoscendo la parola se la parola non la conosco e chiaramente lui mi propone anche la parola vi ricordate s'ha scritto ai suoi angeli darà ordine finché tu non inciampi con il tuo piede e Gesù te la risponde s'ha scritto anche non tentare il Signore Dio tuo perché capite loro vuol dire che io la parola la posso anche manipolare il demonio la parola la manipola ecco perché noi la leggiamo alla luce dello spirito santo la parola ecco perché la leggiamo secondo la tradizione della chiesa la parola non è che la interpretiamo a modo nostro sveglio domani mattina ah sì la parola mi dice questo sei venuto qui per rovinarci capite è un'altra provocazione forte questa no il Signore ci rovina sì è vero ma come dicevamo prima perché ci provoca perché guardate a Signore l'uomo importa e non può permettere che l'uomo diventi poi oggetto del demonio è venuto per liberare è il primo miracolo che compie poi dopo fare il miracolo la sua cera di Pietro che ha la febbre però il primo gesto che Gesù compie è un esorcismo diremo noi oggi è venuto a liberare il nome sarà chiamato Emanuele mentre il nome Gesù Dio salva Dio salva è venuto a liberare l'uomo dal male e lo sta facendo perché non l'ha fatto fino adesso perché aveva bisogno dei quattro discepoli attorno la chiesa da vedere perché la chiesa questo dovrà fare andate scacciate i demoni gratuitamente avete ricevuto gratuitamente date io so che tu sei il santo di Dio il santo il santo è Dio il demonio lo sa chi è Gesù ricordate abbiamo detto che Marco scrive questo Vangelo per i catecumeni quelli che stanno per ricevere il battesimo quindi quelli che stanno per conoscere vogliono conoscere Gesù al battesimo tu sei il figlio mio alla fine il centurione questo è veramente il figlio di Dio e il demonio lo sa chi è e l'uomo non lo sa ancora Pietro non lo sa ancora Giacomo e Giovanni non lo sanno ancora stanno all'inizio e Gesù vedete davanti a questa realtà che può lasciare un fraintendimento perché c'è il testo e Gesù ordinò severamente taci esci da lui dice il testo originale Gesù sgridò lo sgridò al demonio non sgrida l'uomo attenzione un conto è il malato e un conto è la malattia lo sapete oggi si parla molto di questo se noi curiamo la malattia o curiamo il malato ma se vogliamo curare il malato non la malattia l'attenzione è al malato Gesù qui taci sgridò il demonio non l'uomo perché ha cura dell'uomo taci esci da lui questa uscita provate a pensare in quante forme di peccato qualsiasi forma noi ci siamo accomodati quanti compromessi che noi forse abbiamo fatto ci stanno bene quante situazioni che se noi le volessimo chiarire ma noi stessi dovremmo mettere mamma mia chissà cosa alla fine come noi non fa niente vabbè lasciamo stare così tanto però se noi ascoltiamo la parola del maestro taci esci da lui è lui stesso che poi ci darà questa grazia e allora come ha detto prima il tempo è compiuto il regno di Dio è vicino convertitevi e credete nel Vangelo ti converti e quindi accogli il Vangelo accogli questa vita nuova di questa realtà di questa notizia di questo insegnamento nuovo è lo spirito impuro straziandoli il fatto che qualcuno dice ad esempio lo spirito impuro nella mentale biblica è tutto ciò che ha attinenza con la morte il demonio può portarci alla morte presentandoci la vita però poi ci porta alla morte quindi spirito impuro cioè Gesù gridando a questo spirito impuro che vuole portare l'uomo alla morte straziandole gridando forte uscì da lui perché è chiaro l'abbandonare il peccato ti strazia perché ripeto un conto ripeto pensiamo a un compromesso comunque questo compromesso mi permette di guadagnare qualcosina adesso io mi trovo lacerato perché è una cosina che mi dava anche una sicurezza adesso non la tengo più però quella cosina che mi dava una sicurezza era un frutto di un compromesso tutti furono presi da timore quindi ritorno ancora qui lo stupore stupore vedete è sempre la parola di Gesù Gesù dice taci esci quindi è Gesù che sta parlando è la parola che è la potenza della parola ripeto quella potenza della parola che si è diventata nello scritto adesso per noi taci esci da lui tutti furono presi da timore tanto che si chiedevano una vicenda che è me questo un insegnamento nuovo dato con autorità comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono la sua fama si diffuse subito dovunque in tutta la regione della Galilea ci fermiamo qui mi rendo conto che ci fermiamo qui ci fermiamo qui stiamo ancora al primo capitolo e neanche è finito il primo capitolo però infatti questo oggi proprio questo pensavo oggi speriamo di finirlo questo primo capitolo però ho detto però dicevo a me stesso in un momento vedendo il Signore che cosa vuole portarci perché finirmo il capitolo il compito che dobbiamo terminare noi non abbiamo un compito da terminare abbiamo un compito solo quello di conoscere Gesù Cristo e forse anche ve l'ho detto tante volte un solo versetto e allora vuol dire che il Signore ci ha voluto qui per conoscere e forse ci sta chiamando su questa realtà che forse ancora di più deve entrare poi nella nostra vita in questa realtà di questa parola così forte voglio anche formularvi gli auguri di Natale perché è la parola vedete è questa parola che ritornerà e noi risentiremo risuonare nella notte di Natale ve l'ho detto tante volte permettetemi se ve lo ripeto ancora non è il bambino perché ci può essere pure quell'aspetto emozionale e sentimentale va bene anche non guasta ma non fermiamoci però a quell'aspetto lì lì è la parola che si fa carne con tutto questo mistero della parola che si fa carne cioè capite è uno della Trinità che è venuto ad abitare in mezzo a noi è venuto lui ad abitare in mezzo a noi ci ha scelti ci ha cercati quindi noi siamo dei cercati o dei ricercati come meglio preferite perché noi ci siamo allontanati e lui è venuto a cercarci a ricercarci quindi accogliamo questa parola viviamo di questa parola stupiamoci e meravigliamoci stupire vedete con la strananza con stupidità non temiamo di essere stupidi davanti a questo mistero come sono stati i santi i grandi mistici quindi davanti a questo realtà ripeto il bambino chiediamoci anche questo ti sei fatto bambino cosa ti ha portato a questo il bambino non fa paura a nessuno quel bambino è il figlio di Dio è Dio non ci fa paura non deve farci paura ma non ne approfittiamo però non ne abusiamo perché ne potremmo abusare sminuendo e svalutando il mistero è un mistero non un mistero nel senso di il mistero è una cosa non lo so è un mistero no il mistero direbbe San Paolo che ciò che era nascosto da sempre in Dio Dio ce l'ha fatto conoscere e ce l'ha rivelato il suo amore il suo amore è un mistero grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie 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 grazie